ciao amici blucerchiati che sensazioni avete al termine di questo pareggio 1 a 1 in trasferta contro il benevento il primo punto di questo girone di ritorno io contrastanti ma alla fine positive vi dirò perché il presentimento che avevo prima di questa partita non era buono perché solitamente la sandoria queste partite le sbaglia in casa di avversari magari meno quotati tecnicamente ma che di solito sono più motivati e quindi ci fanno fare brutte figure e questo presentimento si stava avverando dopo il gol di caprari il classico gol dell'ex a inizio secondo tempo e una prestazione che era sì diciamo sufficiente ma senza particolari picchi e appunto messasi in un certo modo mi aspettavo la classica sconfitta da sandoria in trasferta invece la reazione c'è stata ci sono stati i cambi efficaci e uno soprattutto ci ha permesso di riacciuffare il risultato alla fine andiamo via anche con qualche rimpianto perché abbiamo messo alle corde il benevento nella parte finale della partita senza però riuscire a trovare il gol che vale tre punti iniziamo con le pagelle partendo da emile audero che alla fine secondo me merita di portare a casa la sufficienza anche oggi perché è ovvio è molto grave è molto evidente il l'errore sul gol di caprari si maudero si fa passare un pallone tra sé e il palo con caprari che aveva pochissimo specchio e quindi pesa il l'errore del nostro portiere che però poi si rifà e ci tiene in partita evitando il 2 a 0 di la paduna in un paio di occasioni e quindi per me vale la sufficienza sufficienza che arriva stiracchiata anche per Bartosz Berezinski molto sollecitato perché il benevento quando attacca lo fa soprattutto dalla sua parte con caprari che lo punta tante volte con la padula che lo fa monire Berezinski sbaglia un cross molto male quello mi è rimasto impresso quello mi ha fatto quasi male vedere Berezinski crossare in quel modo ma sappiamo che non è esattamente il suo fondamentale preferito alla fine secondo me merita comunque una sufficienza anche se non è stata una partita brillantissima del terzino polacco non arriva secondo me la sufficienza lorenzo tonelli il pirata torna a giocare un po sorpresa dal primo minuto al posto di yoshida viene ammonito per farlo sulla padula e soffre l'attaccante ex milan e genoa l'attaccante peruviano alla fine secondo me perde il duello con la padula che pure non segna ma ci tiene molto spesso in allarme con le sue giocate offensive e tonelli e tra l'altro ha difidato quindi salterà il prossimo match contro la fiorentina invece mantiene la calma e continua nell'ottica e nella scia delle buone prestazioni omar collei 6 secondo me per il gambiano che non ha particolari fastidi da quel lato della difesa il benevento ci sollecita poco quel poco che c'è da fare collei lo fa discretamente spazza quando c'è da spazzare costretto tante volte impostare che non è la sua specialità ma insomma lo fa con una discreta precisione e buona partita anche per tommaso augello 6 e mezzo per il laterale sinistro difensivo classe 94 che può interpretare una delle partite che più gli si addicono e cioè con tanta partecipazione alla fase offensiva il benevento si ogni tanto ci impegna facendoci correre all'indietro ma non c'è un avversario che lo punta costantemente roberto insigne gira più internamente quindi augello può appoggiare producendo una quantità industriale di cross gli manca quello vincente ma insomma l'appoggio alla manovra dal punto di vista offensivo è sempre puntuale passiamo al centrocampo secondo me giornata storta oggi per antonio candreva 5 e mezzo non funziona come sempre la l'intesa offensiva con bartos bereginski oggi torna a fare il laterale nel 4 4 2 classico di centrocampo cross che arrivano non particolarmente precisi tecnicamente non una giornata indimenticabile discreto nell'appoggio invece alla fase difensiva che solitamente gli manca un po torsby che ha giocato a centrocampo vicino ad adrian silva o meglio questa era l'idea che avevamo leggendo la formazione iniziale in realtà hanno giocato molto distanti molto sfasati torsby era in costante appoggio alle punte giocava quasi da trequartista alla perrotta se vi ricordate insomma un trequartista non dai piedi fini ma che deve appoggiare gli attaccanti lui lo faceva soprattutto per le giocate palla alta per le giocate aeree per andare a schermare a impedire la ricezione al regista avversario cioè schiattarella torsby 6 importante il suo contributo soprattutto nel primo tempo quando la sandoria cercato più la palla alta lui è andato a contestarne molte alla difesa del benevento 6 anche per adrian silva che ha giocato una partita difficile per due motivi perché appunto aveva tanto campo da coprire essendo torsby molto alto che quindi li lasciava tanto compito difensivo da fare in una di queste occasioni il benevento riparte nel secondo tempo e lì nasce il gol di caprari su cui effettivamente siamo molto molto scoperti difendiamo male e silva in più gioca una partita praticamente caricato da subito di un cartellino giallo per un fallo su jonita che proprio in una di queste circostanze gli scappa alle spalle il benevento aveva un centrocampista centrale e due mezzali e quindi ci poteva mettere in difficoltà su quell'aspetto lì però è stato bravo silva a giocare tutta la partita in modo così scoperto a centrocampo e senza incappare nella seconda munizione che sarebbe stata letale e devastante per la nostra squadra. Yancto è tornato titolare siamo tornati a un 4-4-2 classico molto stile Ranieri che però non mi ha convinto o se non altro non ha avuto l'effetto di farci essere più coperti perché il benevento quando ripartiva ci trovava spesso lunghi spesso scollati comunque Yancto è tornato a fare l'esterno a sinistra nel 4-4-2 5 e mezzo secondo me per il cieco che ha chiuso in crescendo partecipando discretamente ai nostri attacchi finali ma nel primo tempo ha fatto fatica a essere incisivo tanti retropassaggi e una secondo me cattiva gestione degli spazi via sinistra tra lui Augello e Keita che si allargava tanto da quella parte approfittiamoli quindi per passare al reparto offensivo sono partiti Keita Balde e Ernesto Torregrossa come titolari Keita ha giocato una bella partita secondo me non facile aveva sempre l'uomo addosso ma ne ha fatti ammonire due De Pauli e Ibrota che non hanno fatto non sono riusciti a tenere in nessun modo e hanno speso il fallo tattico da giallo Keita segna il gol del pareggio e tante volte riesce a ricevere palla girarsi creare occasioni non sempre trova la giocata decisiva ma mette anche paura a Montipolo costringe una parata nel primo tempo è il nostro top player secondo me insieme a forse a un altro che è un top player in potenza e che è entrato e adesso lo vedremo con i cambi ma insomma è molto molto bene Keita Balde e invece giornata difficile per Ernesto Torregrossa che sicuramente non fa mancare il sacrificio il lavoro fisico si sono divisi l'attacco mettendosi sul centro-sinistra Keita un po' più largo a destra Ernesto Torregrossa che ha battagliato secondo me alla lunga ha perso il duello con Glick ma è stato un bel duello in cui Torregrossa non è riuscito però a rendersi pericoloso ripeto il pressing non l'ha mai fatto mancare da quella parte però non è riuscito a essere pericoloso per la difesa del berevento quando la Samp aveva il pallone Ranieri ha speso tutti i 5 i cambi a disposizione e secondo me sono entrati tutti bene è entrato Yoshida a cui diamo 6 al posto di Tonelli ha sbrigato discretamente la fase difensiva certo la Samp ha un po' ballato sui contropiede che ha avuto il benevento ma non tanto per colpa della difesa quanto per la squadra che si allungava al centrocampo che tornava poco era un po' pigro nelle transizioni negative sulle ripartenze del benevento Yoshida le ha contenute discretamente e in un paio di occasioni nel finale evidentemente ci ha preso Augusto dopo il gol contro il Parma è andato a minacciare sfiorando in un paio di occasioni il 2-1 sui corner a favore alla fine ne batteremo 10 quindi sintomo del fatto che insomma abbiamo fatto una partita molto molto offensiva e secondo me di personalità anche se con confusione a tratti e soprattutto poche idee nel primo tempo per attaccare il benevento che ci aspettava Bassi chi è l'MVP della partita entrando dalla panchina insieme a Keita l'altro 7 della giornata lo diamo a Michael Damsgaard che è schierato lì a destra cambia completamente il copione della partita il benevento non lo tiene in nessun modo prima dell'azione splendida con la quale confeziona poi l'assist per l'1-1 ne fa un'altra simile in cui mette una palla ancora più bella da cui nasce il corner a favore della Samp insomma Michael Damsgaard è tornato sui livelli che ben conosciamo e anche esterno a destra fa molto 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 bene è entrato anche Albin Ekdal al posto di Adrian Silva a fare lo stesso ruolo da schermo mediano davanti alla difesa e lo fa bene in un momento in cui la Samp preme è entrato molto bene anche Valerio Verre 6 anche per il centrocampista ex Roma che gioca bene i palloni che deve lavorare sulla tre quarti del benevento favorito dal fatto che entra in un momento in cui la Samp è in dominio totale della partita mette le tende nella tre quarti avversaria lui comunque sa sempre quanti tocchi fare gioca di sinistro, gioca di destro, uno scavetto, un colpo di tacco è entrato bene in partita, si è divertito mi ha dato questa impressione qua è entrato anche Fabio Quagliarella che ha partecipato alla sedio finale senza riuscire però a graffiare in area di rigore diamo 6 anche al nostro capitano che ci mette le sponde, crossa e preoccupa però senza fare male alla difesa del benevento chiudiamo con mister Claudio Ranieri 6 è stata una prestazione con vari momenti ci sono state tante partite dentro la partita la Samp ha fatto fatica a maneggiarla nel primo tempo tanti troppi lanci regalati scusate alla difesa del benevento che non aspettava altro poi però importante la reazione dopo lo svantaggio forse qualcosa ha sbagliato Inzaghi passando a una difesa troppo bassa e quindi aiutandoci a recuperare e a trovare il pareggio però anche i cambi di Ranieri sono stati fatti nel modo giusto e leggo anche nella formazione iniziale con Yangto che torna a titolare una volontà, un'idea di far giocare anche il ritorno di Tonelli di far giocare tutti, di coinvolgere tutti in questo progetto dovrà essere bravo Ranieri in questo girone di ritorno a far ruotare tutti perché abbiamo tanti titolari a disposizione adesso tornerà anche Gabbiadini quindi fondamentale se nel girone d'andata Ranieri ha dovuto mettere insieme spesso una formazione facendo i conti con squalifiche, infortuni e assenze nel girone di ritorno toccando ferro sperando che restino tutti disponibili disponibili avrà quest'altro tipo di problemi la scelta di domenica in domenica di partita in partita su quale titolare scegliere tra i tanti a disposizione aspetto i vostri commenti qua sotto e mi raccomando seguitici sui nostri canali Twitch, Youtube e Instagram Ciao